Buongiorno a tutti, bentornati su questo canale. È da molto tempo che non registro dei video, ma purtroppo gli impegni lavorativi da un lato e familiari dall'altro, soprattutto in questo periodo di pandemia, dove appunto sono aumentate anziché diminuire, mi hanno impedito di registrare nuovi video. In estate ero ricomparsa con dei progetti, poi ho portato avanti solo quello della meditazione, le idee ci sono, però aspetto tempi migliori. Nel frattempo è arrivato l'inverno, nell'ultimo video era piena estate, nel frattempo ho cambiato casa, infatti c'è un sfondo diverso. Mi è stato regalato un microfono che non so se sto utilizzando correttamente, spero di sì. e siamo sempre in un altro lockdown, siamo qui in zona rossa, e ho deciso di ritagliarmi un po' di tempo per provare a registrare due o tre video, adesso devo ancora vedere, su un tema che mi sta molto a cuore e che ho avuto l'occasione di trattare, o meglio che sto trattando con le mie classi, in particolare con le classi quinte del liceo in cui lavoro, nell'ambito dell'ora di educazione civica. Appunto, educazione civica è una materia che da quest'anno è diventata obbligatoria, a livello collegiale e interdisciplinare, e questo mi ha dato appunto lo spunto per trattare questa tematica. Soprattutto con le classi quinte abbiamo deciso, a livello di istituto, di sviluppare una serie di argomenti appunto in modo interdisciplinare, e nello specifico io mi sono inserita, diciamo, con le mie riflessioni sul tema della sostenibilità, in riferimento anche all'Agenda 2030. E da lì sono partita per appunto fare alcune riflessioni filosofiche. Quindi, in questo primo video illustrerò soprattutto il tema, perché poi non è nemmeno un tema specifico, ma è un insieme di temi, un insieme di questioni che sono tutte legate al fatto appunto della sostenibilità, al tema della sostenibilità e al fatto che siamo tutti connessi, quindi che tutto è connesso, che siamo interconnessi. Quindi oggi parlerò soprattutto di questo, dando alcuni spunti, alcuni esempi. Nel prossimo incontro mi piacerebbe invece sottolineare come avere una prospettiva olistica e non individualistica sia importante, ma questo non significhi che noi non dobbiamo avere cura di noi stessi, anzi, la cura di sé è proprio il primo passo fondamentale per costruire una società più migliore e anche più sostenibile e, vediamo se riuscirò a registrare un ultimo video, mi piacerebbe fare alcune considerazioni aggiuntive su alcuni temi legati, secondo me, alla sostenibilità e quindi al fatto che tutto è connesso, ovvero il tema della responsabilità e il tema della complessità. Allora, parto con un inquadramento un po' filosofico, ovviamente, rimando anche ad alcuni miei video precedenti nella sezione di storia della filosofia e in particolar modo al video sulla rivoluzione scientifica. Diciamo che nonché al video su Aristotele, ovviamente, quindi Aristotele e Galilei come due punti di riferimento di questo percorso. Diciamo che per circa 2000 anni il sistema aristotelico ha dominato la scena del pensiero filosofico e scientifico, perché appunto le due cose non erano poi separate, proponendo il finalismo come principio esplicativo dell'universo. Cosa voglio dire? Voglio dire che Aristotele, che era un filosofo certo, ma a suo modo, a suo tempo, per quello che poteva essere a suo tempo, era anche uno scienziato, partene infatti proprio dall'osservazione della natura. Ecco, Aristotele si chiedeva il perché delle cose. Aristotele offriva delle spiegazioni dell'universo basate proprio sull'essenza stessa delle cose. Ad esempio, perché la pietra cade? Ovviamente non si era ancora scoperto dalla legge di gravità. Aristotele sostiene che la pietra cada perché possiede la gravitas, appunto. Proprio la sua essenza è la gravitas, quindi la pesantezza, quindi scenda verso il basso e infatti la terra si trova in basso proprio perché possiede la gravitas. E sopra abbiamo, quindi il luogo naturale della terra è il basso, e sopra abbiamo le acque, e sopra abbiamo l'aria, e infine il fuoco. Il fuoco è l'elemento più leggero che possiede appunto la levitas, questa leggerezza. Insomma, all'interno dell'universo aristotelico ogni cosa agisce in base a un fine, in base a uno scopo, e mira a realizzare la sua natura, la sua perfezione, la famosa intelechia di cui abbiamo già parlato. Siamo qui all'interno di una prospettiva che possiamo chiamare filosofica, ma che possiamo chiamare organicistica, anche all'interno di una prospettiva qualitativa, dove appunto importante è la qualità delle cose, all'interno di una prospettiva finalistica. Possiamo chiamarlo anche quello di Aristotele, che poi appunto è rimasto per secoli e secoli e secoli, un paradigma organicistico e appunto pre-scientifico, per come noi conosciamo ad oggi la scienza. Con la scienza moderna, con quella appunto che noi chiamiamo scienza, e soprattutto con la rivoluzione scientifica e con Galileo Galilei, questa visione organicistica, questa visione olistica, che mira ai fini e alle essenze, viene abbandonata. Lo scienziato infatti non si chiede il perché delle cose, non si chiede qual è l'essenza di un determinato fenomeno. Lo scienziato ha uno sguardo molto più tecnico, potremmo dire molto più pratico, non è più il filosofo contemplativo, enciclopedico, metafisico appunto come poteva essere Aristotele, ma è appunto lo scienziato, quindi uno sguardo più tecnico, più pratico, orientato non tanto a cercare l'essenza delle cose, quanto a scoprire il funzionamento delle cose, il funzionamento della natura, la legge della natura. Quindi, scusate, lo scienziato non si chiede tanto il perché, ma si chiede piuttosto il come, il come avviene. E chiaramente qui siamo all'interno di un paradigma scientifico, che è un paradigma quantitativo, quindi dove contano le quantità e non le qualità, ed è proprio questa la distinzione fondamentale anche tra la magia, da cui anche la scienza nasce, e la scienza. È un paradigma di tipo matematico, infatti Galileo Galilei diceva che la natura è un libro scritto in linguaggio matematico, quindi non è comprensibile da chiunque, e è un paradigma di tipo meccanicistico. Ecco, questo è quello che possiamo chiamare il paradigma scientifico, all'interno del quale noi siamo sino ad oggi. Diciamo che il paradigma scientifico si è dimostrato sicuramente vincente. Si è dimostrato vincente da tanti punti di vista. È solo grazie alla scienza e alle sue applicazioni che l'uomo ha potuto migliorare le sue condizioni di vita, le condizioni del genere umano. E non devo stare a spiegare chiaramente perché il paradigma scientifico sia stato fondamentale, però è chiaro e sempre più evidente a noi, come anche alla comunità scientifica, che il paradigma scientifico porta con sé anche dei risvolti negativi o comunque dei rischi. Il fisico italiano Carlo Rubbia sottolinea proprio come la capacità di controllare e influenzare il mondo circostante ci abbia condotti appunto a rischio di una netta separazione tra l'uomo e la natura e quindi di uno sfruttamento incondizionato della natura che diventa persino autodistruttivo, che è quello che stiamo appunto vedendo e quello a cui stiamo assistendo. La nostra terra appunto ai giorni contatti, l'inquinamento dei mari, delle acque, dell'atmosfera, il cambiamento climatico, persino appunto la pandemia. Possiamo dire che il modello antropocentrico, ovvero quel modello scientifico, che mette comunque al centro l'uomo, quindi il modello antropocentrico che considera l'uomo signore incontrastato della natura, padrone della natura, quel modello che si è affermato proprio a partire dalla rivoluzione scientifica ad alcuni, insomma da un po' di tempo, comincia a essere messo in discussione da chi cerca di riprendere anche la prospettiva precedente e quindi di unire alla prospettiva scientifica che naturalmente non deve essere abbandonata una prospettiva più olistica, più organicistica, quindi riprendere un po' la prospettiva così degli antichi che ci ricordano comunque che l'uomo è parte integrante della natura, quindi l'uomo non è qualcosa di diverso dalla natura che può quindi sfruttare la natura senza poi che si repercuotano su di lui delle conseguenze, ma l'uomo è parte della natura naturalmente, è parte integrante di un equilibrio che bisogna salvaguardare, è l'equilibrio che bisogna salvaguardare non tanto l'uomo. E infatti al modello antropocentrico si sostituisce, meglio si dovrebbe sostituire un modello biocentrico dal greco bios, vita, cioè un modello che metta al centro la vita, un modello secondo cui appunto al centro sta l'equilibrio del nostro ecosistema, un modello che ci ricorda che noi siamo gli inquilini di una dimora che però appunto dividiamo con tutti gli esseri viventi e rispetto alla quale siamo responsabili, chiaramente siamo più, dobbiamo essere più responsabili degli altri esseri viventi. Noi viviamo su un pianeta ma se ci pensiamo per alcuni esseri noi siamo un pianeta, noi viviamo nella natura ma noi siamo anche natura. Ecco, io credo che, per tornare anche agli obiettivi così di educazione civica, io credo che un cittadino consapevole nel 2021 non possa prescindere dalla scienza, cioè debba essere chiaramente fedele alla scienza, ma debba avere anche uno sguardo così più ampio, più olistico e a ben vedere è la scienza stessa che ci ricorda questo, comunque quanto sia importante avere uno sguardo più ampio che tenga conto della connessione del tutto. Ora, io non sono assolutamente esperta in fatto scientifico e non voglio fingermi tale, però chiaramente la fisica quantistica ci ricorda quanto tutto sia connesso, fenomeni come appunto l'effetto farfalla piuttosto che l'entanglement, cioè ci ribadiscono questo, ma dal punto di vista scientifico appunto questo in un certo senso, in un senso meno provato scientificamente, ma questo sentire appunto c'era già nella scienza, tra virgolette, degli antichi, c'era già nella medicina degli antichi. Se pensiamo per esempio a Ippocrate, il medico sul giuramento, insomma, rivisto del quale i medici attuali appunto fanno il loro giuramento, appunto Ippocrate ci ricordava che la salute dipende proprio dall'equilibrio che è interno a noi, ma è anche esterno a noi, per cui dipende certamente dai quattro umori, da come questi umori si trovano nel nostro corpo, ma dipende anche appunto da quello che noi troviamo all'esterno di noi. Quindi nell'anamnesi Ippocrate chiedeva per esempio dove abita il paziente, dove abitava, com'era la sua casa, com'era l'aria, com'erano le acque, ma anche com'era la sua comunità, cioè se vi era serenità attorno a lui o meno. Ecco, se ci pensiamo bene, questa esperienza della connessione del tutto è un'esperienza che noi comunque facciamo continuamente, ovviamente su vari piani, su vari livelli, pensiamo anche semplicemente a quando c'è qualcuno vicino a noi che non sta bene e noi in qualche modo ne siamo coinvolti. E' più normale, più comprensibile pensare a qualcuno vicino a noi che non sta bene, a noi che ne siamo coinvolti, è più difficile pensare a qualcuno lontano da noi, dall'altra parte del mondo che non sta bene, è più difficile sentirsi convolti. Ma questa circolarità c'è comunque, la terra non sta bene e gli effetti arrivano comunque su di noi. E di questa circolarità, di questo fenomeno proprio della connessione, facciamo esperienza, abbiamo fatto esperienza anche, e stiamo facendo esperienza anche durante questa pandemia. Cioè chiaramente se noi non fossimo stati così connessi da un certo punto di vista non sarebbe, questa epidemia non sarebbe diventata una pandemia, probabilmente. Scusate. D'altro canto, quello che sta succedendo ci sta anche facendo riflettere, o dovrebbe farci riflettere, su appunto sulla nostra responsabilità e su quella degli altri. Cioè noi dobbiamo assumere tutta una serie di comportamenti responsabili, quindi la mascherina, quindi rispettare tutta una serie di regole, perché certo per la nostra salute, ma per la salute degli altri anche. Quindi questo aspetto della connessione, dell'interrelazione, è secondo me venuto alla ribalta nella nostra attualità molto chiaramente. Ecco, se nel prossimo video mi piacerebbe, così, attraverso la filosofia, mostrare come abbandonare una prospettiva individualistica non significhi però smettere di pensare a se stessi, ecco. Invece adesso volevo, così, fare riferimento a una famosa, insomma, storiella, la storiella del Toppolino, che ci racconta Hemingway, che appunto ci ricorda quanto è importante avere sempre questo sguardo che va anche sugli altri, sul mondo attorno a noi. Scusate. Appunto Hemingway ci racconta di questo Toppolino che vede dalla fessura di un muro che il contadino e sua moglie hanno comprato una trappola per topi. E così va ad avvisare gli altri animali presenti nella fattoria, quindi il gallo, il maiale e la mucca. Diciamo che tutti e tre sono abbastanza disinteressati. Nella migliore delle ipotesi forse il maiale dice va bene, pregherò per te, ma comunque questo non mi riguarda. Gli altri se ne fregano, cioè sostanzialmente la trappola per topi è un problema tuo. Succede poi che il serpente viene preso nella trappola, la moglie va pensando che sia il topo, in realtà c'è buio e non vede che è un serpente, viene morsa dal serpente e le viene una febbre molto alta. Ecco che nella tradizione popolare ci racconta l'autore per placare la febbre molto alta serve un brodo, una zuppa di pollo ed ecco che il pollo viene ucciso per preparare la zuppa. Successivamente la moglie non si rimette, poi arriverà addirittura a morire. A casa arriveranno per i miei parenti, poi gli amici, poi tantissima gente per il funerale e il contadino sarà costretto a macellare prima il maiale e poi la mucca per dare a tutti da mangiare. E appunto l'autore conclude dicendo che il topolino guardava dalla fessura nel buco, dal buco nel muro appunto questa scena molto triste, la solitudine insomma del contadino. E conclude proprio dicendo, riprendendo delle parole che ci sono in una poesia di John Donne, poeta del Cinquecento, appunto Hemingway dice non chiederti mai per chi suona la campana e da qui anche il titolo appunto del romanzo. Essa suona sempre anche per te. Come dire, quando uno di noi è colpito siamo tutti a rischio, siamo in qualche modo tutti coinvolti. Secondo me questa storiella è efficace. La sostenibilità è al centro, almeno in linea teorica, delle varie politiche internazionali, però è al centro anche delle, come dire, delle linee guida anche delle grandi religioni. Per esempio è presente questo tema, è proprio centrale, quello della sostenibilità, è centrale nell'enciclica che Papa Francesco ha scritto e pubblicato nel maggio 2015 Laudato Si. L'enciclica Laudato Si, anche qui senza volermi addentrare a fare alcun tipo di analisi, è proprio un'enciclica sulla cura della casa comune, cioè della casa che noi condividiamo con gli altri esseri viventi. e Papa Francesco ci ricorda l'importanza di considerare la natura come appunto proprio fondamentale per noi, come la nostra matrice, non come così una cornice estemporanea delle nostre vite. chiaramente questo tema si ritrova anche in moltissime moltissime opere, opere cinematografiche, opere letterarie, naturalmente appunto un esempio è Hemingway, ma ce ne saranno sicuramente, insomma Hemingway è il primo che mi è venuto in mente, perché questa storiella gira un po' di questi tempi anche sui social e mi è sembrato efficace, però ce ne sono molte altre, ci sono anche appunto dei film, penso per esempio a Cloud Atlas, non so se qualcuno di voi l'ha visto, è un film abbastanza complesso, appunto è una sorta di storia epica del genere umano nella quale appunto le azioni dei personaggi hanno delle conseguenze sul presente, sul passato, sul futuro di altri personaggi, è un grande racconto di, anche se volete, di reincarnazione, c'è un po' questo tema, ma sono appunto sei storie che si intrecciano a dimostrarci la complessità del tutto, ma anche appunto questa connessione del tutto, cioè proprio questa grande verità che viene ripetuta soprattutto verso la fine del film ed è proprio tutto è connesso, cioè questa è la grande verità che bisogna imparare anche attraverso magari storie di dolore, eccetera, lì ci sono sei storie che si intrecciano tra di loro, ma è un film che ho visto anche tempo fa che non ricordo neanche benissimo, però c'è proprio questo tema centrale della connessione del tutto, ma se pensiamo anche a un altro film, insomma ormai non recente, però Avatar, che io ho rivisto, non che ho rivisto, che ho visto in realtà recentemente, proprio è il senso di questo, di quanto noi non siamo più connessi alla natura e di quanto in qualche modo lì ci venga presentato in questo mondo meraviglioso, così colorato, quello che ci viene presentato è un nuovo paradigma, possiamo dire. Restando invece sempre sul piano così spirituale, mi piaceva concludere facendo riferimento a un'altra cosa di cui io non sono un'esperta e non voglio fingermi tale, però volevo comunque focalizzarmi brevemente sul concetto di karma, nel senso che non è questa cosa della connessione del tutto, non è presente solo nella religione cattolica, anzi, forse è molto più presente in altre religioni, in altre filosofie di vita, soprattutto quelle orientali. Ecco, il termine karma è un termine che spesso utilizziamo a sproposito, comunque nel linguaggio comune quasi ad indicare una grande sfortuna che mi è capitata, è stato il karma. Chiaramente il karma è un concetto più complesso che io stessa non, ovviamente non so, cioè non conosco appieno, ma è un concetto che risale all'upanishad praticamente, quindi già all'ottavo secolo avanti Cristo e che oggi è centrale, poi declinato anche in modi diversi nella filosofia buddista e in quella hinduista. Però, cercando di andare proprio all'essenza, il karma è il principio di azione e reazione, quindi il principio di equilibrio universale, poiché appunto, quel principio che ci ricorda che a doni nostra azione corrisponde appunto una reazione, quindi ciò che noi facciamo influenza gli altri, ciò che gli altri fanno influenza noi. Ecco, in base a questo pensiero dobbiamo ricordarci che ogni nostro contributo influenza il tutto, quindi noi in qualche modo anche se siamo piccoli piccoli rispetto all'universo e possiamo apparire anche insignificanti a noi stessi, in realtà la nostra presenza o meno, la nostra azione o meno influenza comunque il tutto ed è per questo e questo sarà poi il tema del prossimo incontro che noi dobbiamo lavorare su di noi perché chiaramente se dentro di noi c'è calma noi facilmente percepiremmo percepiremo calma anche fuori di noi e saremmo in grado di trasmetterla. Se dentro di noi c'è caos allo stesso modo percepiremo fuori caos e trasmetteremo in qualche modo caos. grazie a tutti i